È tardi, ma la persona che deve venire con te sta perdendo tempo e non è ancora pronta. Cosa le dici in italiano per metterle fretta? Un gesto molto molto utile e chiaro è... Ma se volete usare le parole, ci sono sia delle espressioni invariabili su animo, sia espressioni variabili che variano in base alle persone a cui ci rivolgiamo. Se è soltanto una persona, tu, o se sono più persone, voi. Fai presto, svegliati, sbrigati, spicciati, muoviti, datti una mossa.